Siamo caduti purtroppo un'altra volta nei nostri limiti. Dobbiamo cercare di resettare queste difficoltà che abbiamo e cercare di continuare come abbiamo iniziato la prima parte della partita perché l'atteggiamento della partita era giusto. Se riuscite a trovare il gol, non si è riuscite a concretizzare altre buone occasioni. Solo che alla fine siamo sempre qua a dire che purtroppo non siamo riusciti e dobbiamo farci un esame di coscienza perché non può essere che ogni volta cadiamo in questi limiti. Luca, siamo ancora qui a recriminare su tante vostre occasioni che avete sprecato due punti in tre partite che sono degli sconti salvezza. Sì, sono pochi e recriminiamo. Ricominiamo tanto perché è un periodo in cui non riusciamo a leggere delle situazioni di gioco sia difensive che offensive. Anche oggi abbiamo preso un gol su un cross, poi la parata di Agazzi sul colpo di Tessera Deje. Abbiamo creato tanto e non abbiamo chiuso la partita. Il prossimo appuntamento a Ferrara, noi ci servono disperatamente dei punti quindi andiamo lì, andiamo lì, spregiudicati e cercare di fare la nostra partita anche perché alla fine abbiamo delle certezze che sono quelle che siamo dei buoni giocatori e dobbiamo credere di più noi stessi.